Buonasera, Monsignor Pacommio. Vorremmo chiederle come è nata l'idea di una cattedra del dialogo. È nata innanzitutto per creare un luogo dove persone di competenza potessero interloquire tra loro ma accordarci preventivamente che non era finalizzato a uno scontro di idee ma proprio con semplicità e chiarezza dire in libertà il proprio pensiero, avere un ascolto benevolo da parte dell'interlocutore e coinvolgere così gli ascoltatori all'assemblea a un clima e a una modalità di relazionarsi, quella appunto del dialogo. E perché è necessario oggi trovare un punto di dialogo tra laici e cattolici? Io direi che i motivi sono tanti. Quello più evidente è la frammentazione di una cultura che viene in modo delibante presa a caso, a volte con motivazioni e precomprensioni non valiate e che con facilità pongono le persone l'una contro l'altra. E di più un modo di rapportarsi che non migliora la qualità della vita, il modo con cui io mi sento dentro e il modo con cui mi rapporto, con chi condivide la mia vita o occasionalmente incontro. Ecco perché le categorie possono essere molte, sono i credenti, i non credenti, sono laici di una laicità un pochino bloccate, sono laici aperti che nonostante idee addirittura contrastanti hanno piacere di conferire e di confrontarsi. Io auspico grazie anche agli aiuti che ci vengono dati economici di poter creare una tradizione della cattedra del dialogo dove lentamente chi ha piacere davvero di rinnovare la cultura del rapporto e della qualità di vita abbia questo luogo a cui riferirsi. E in ultimo perché la scelta di mettere al centro di questa cattedra la figura di Gesù? Ecco è il primo anno. Io originariamente avevo pensato a temi scottanti ma ha visto questa sera se si parte con un tema si rimane con una fame, una sete terribile e una appena avvicinato il bicchiere alla bocca. Ecco prendendo un tema pur colto da varie prospettive, da vari linguaggi e da varie sensibilità però lo snodi nel tempo, permette ricadute, confronti a gruppi piccoli, inventività magari nel ripensare anche le cose e siccome sembrava che nell'ambito cinema, nell'ambito letteratura, nell'ambito del pro e il contro dei pareri e delle valutazioni la persona, il tema Gesù fosse tra quelli ricorrenti, controprova, mai si sono scritte tante storie di Gesù come in questi ultimi dieci anni quando la parola d'ordine era storiograficamente non possiamo scrivere di lui. Ecco, ed è stato un modo con cui partire. Ecco, probabilmente faccio un anticipo che non so se è profezia o è già archeologia, faremo un anno dedicato alle scienze e la fede, avendo lo schema antropologico davanti e ridicendoci chi è la persona umana e di che cosa ha fondamentalmente bisogno rispetto alle proposte e alle realizzazioni attuali.